Sebbene l'ultimo DPCM non preveda chiusure o limitazioni per il settore moda, di fatto quest'ultimo sta subendo il contraccolpo del lockdown ibrido, che sta, comprensibilmente, ingenerando nei cittadini un clima di sfiducia tale da far registrare un crollo verticale dei fatturati, che rispetto ai dati degli ultimi anni si aggira intorno all'80%. E quanto rileva il presidente di Federmoda Ragusa, Daniele Russino, che assieme ai colleghi delle altre province siciliane, ha scritto la nota al governatore Nello Musumeci e all'assessore regionale delle attività produttive Girolamo Turano, per denunciare la gravità della situazione. D'altra parte, prosegue la nota, al divieto dell'organizzazione di ogni possibile momento di socialità, come eventi e ricorrenze, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, compleanni ed eccetera, alla forte raccomandazione anche nei settori privati, con l'ultimo DPCM si è sommata la sopraggiunta in posizione di chiusura delle palestre e delle piscine e dei luoghi della cultura come cinema e teatri, ma soprattutto la chiusura anticipata in posto ai ristoranti, bar e pizzerie, realizzando nei fatti una sorta di coprifuoco. In tal modo si è registrato per le aziende del settore moda un immediato lockdown degli acquisti. Siamo di fronte a uno scenario spettrale, afferma Federmoda, che si sta configurando come colpo di grazia per le numerose imprese legate a questo indotto. Questo crollo dei consumi e quindi dei fatturati comporterà anche per la stagione autunno-inverno magazzini pieni di merce che nel nostro settore si svaluta fortemente nel giro di poche settimane. Inoltre, le principali misure del decreto ristoro hanno generato un clima di ulteriore sconforto per gli imprenditori del comparto della moda. Queste misure, infatti, non prevedono alcuno ristoro per un comparto che da sempre ha rappresentato l'eccellenza del Made in Italy e che oggi, al contrario, non viene tenuto in minima considerazione, escludendolo dai uti e sostegni che, se non risolutivi di certo, avrebbero potuto dare un significativo e momentaneo supporto. Ecco perché avanziamo al Governo regionale una serie di misure specifiche, contributo a fondo perduto commisurato alla differenza dei ricavi per il mese di ottobre-novembre 2019 e 2020 per il settore moda. Contributo a fondo perduto dal valore del canone di locazione e degli esercizi commerciali per il mese di ottobre-novembre-dicembre. Confidiamo in un riscontro positivo che possa dare una dose di speranza ai tanti operatori ormai allo stremo delle forze.